Oh santo cielo, Cristina, ma dove sta andando? Salve a tutti, sto andando negli studi della 20th Century Fox Non so neanche leggere Adesso che lo sapete, è giusto che io vi informi anche di questo Per andare a fare un contratto multimilionario per un film fantastico Oh ma santo cielo Un call sal che dovrà uscire con grandi attori importantissimi Un film impegnato, veramente fatto Ma questo è il tuo quattordicesimo film Cristina Ma non sei emozionata? L'altro anno hai vinto l'Oscar Eh lo so l'altro anno A malagrotta però A malagrotta, alla discarica Naturalmente E se mi vede porto ancora i masugli Ho vinto un film Cristina, la resina delle monnezzare Ho fatto il remake di Priscilla Comunque mi ha detto Ho trovato un giubbino, sono la zingara, me ne va Niente ragazzi Hai qualcosa di rigenerci prima di Sì Vi amo, mi piace il cazzo Vado a firmare Vi ho un sacco di soldi E ora mi spennuti la faccia E un'altra cosa? Baby Baby Baby